Buonasera, sono Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia. Abbiamo concluso adesso un incontro con il Presidente incaricato sul tema che è stato richiamato più volte in questi giorni della questione ambientale, delle questioni ambientali e della transizione ecologica. Un tema rispetto al quale noi, in rappresentanza anche un po' di tutto il mondo ambientalista, abbiamo chiesto al Presidente Draghi di insistere perché si acceleri quel processo che ci allinei alle indicazioni europee rispetto all'utilizzo dei fondi del Next Generation EU. L'Italia in questo momento è in ritardo, le scadenze che ci aspettano quest'anno saranno molteplici, anche in termini proprio di rappresentanza. L'Italia avrà la presidenza in una serie di eventi importanti internazionali, dunque non possiamo assolutamente permetterci di presentarci impreparati, ma senza una visione, una strategia più puntuale di quella che è stata registrata fino ad oggi. Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla centralità della questione ambientale e da quello che il Presidente Draghi ci ha detto che vorrebbe come ottica di sguardo, di prospettive, la definita così, ovvero questa centralità della trasformazione verde che dovrebbe ispirare anche le altre ed essere trasversale alle altre politiche. Penso alla politica industriale, a politica fiscale, alla salute, a tutto quello che in qualche modo dovrà essere anche rivisto, ripensato e riorganizzato con le risorse che arriveranno. La buona notizia, sulla quale naturalmente abbiamo insistito tutti, è che ci sarà un Ministero della Transizione Ecologica, dove le competenze ambientali saranno ulteriormente rafforzate, perché per guidare e gestire questa transizione sarà necessario un Ministero forte, autorevole e competente. La centralità dell'ambiente dunque in un momento importante per il Paese, questo è il momento in cui dobbiamo gestire forse il più grande piano di rilancio e resilienza degli ultimi decenni. L'implementazione della destinazione, delle risorse, deve vedere anche al centro, e questa è stata la proposta del WWF Italia, la rinaturazione del territorio, perché la relazione stretta tra l'emergenza sanitaria, quella economica e sociale, e i nostri impatti sugli ecosistemi e sugli equilibri naturali, ormai è stata provata ampiamente dalla scienza, è per questo che oggi l'ambiente diventa centrale nelle politiche e nelle strategie. Auguriamo quindi buon lavoro al Presidente Draghi, gli abbiamo consegnato una serie di riflessioni fatte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che era già stato osservato nei mesi passati e che peraltro, per quanto ci concerne, non focalizza e non c'entra quello che è l'obiettivo ancora, con una serie di risorse che mancano all'appello del 37% dei fondi che l'Europa ci dice di destinare al green, noi ne abbiamo rintracciati soltanto 31. Quindi ci saranno delle revisioni, che ci auguriamo vengano fatte rapidamente, un'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie.